qui c'è ancora il re leone allora ho riaperto la pagina di facebook sai come mi sono sembrato così? perché c'è questa inquadratura un po' mi sono sembrato Miranda Song che fa con l'occhio così comunque vabbè bando alle ciance allora ho riaperto la pagina di facebook che avevo chiuso da tempo perché non mi va che quando uno cerchi Marco Pesci con google sulla parola motore di ricerca esce uscita fuori facebook perché dare questa priorità a Zuckerberg che conosceva le magliette grigie Zuckerberg Zuckerberg vabbè quello lì che porta le magliette grigie perché devi avere il dominio sul nome mio cioè scrivi Marco Pesci pum facebook ma perché? e invece togliendo Marco Pesci adesso scrivi Marco Pesci esce fuori youtube youtube io l'ho scoperto prima youtube facebook è uscito dopo ma per quale motivo devi ad usci facebook e allora cosa ho fatto io furbo perché meglio nasce furbi che poveretti no meglio nasce furbi che ricchi meglio intelligenti che furbi e ricchi insomma vabbè meglio meglio nasce e insomma che ho fatto io ho levato il nome Marco Pesci l'ho chiamata De Fishies Family quindi andatevelo a vedere e allora se uno scrive adesso Marco Pesci esce fuori youtube a me vi voglio a me vi piace che esce youtube e allora ho levato facebook l'ho chiusa però dico vabbè ma allora sai che faccio gli cambio il nome per cambiargli il nome a parte che tu facebook la pagina quando la chiudi non te la chiudono eh perché rimane nei loro archivi a raccoli perché Zuckerberg quando c'ha la maglietta grigia si mette accesso e si legge tutti i cazzi del mondo perché rimane sempre la pagina tua è chiusa però rimane in modo tale e tu quando riaccedi buh si riapre come per miracolo e insomma vabbè ma perché tu c'hai tutti i tuoi cingaletti ma che non so io ho appena aperto facebook mi sono scritti praticamente 200 io ho 250 250 no non mi frega niente quanti ce l'ho però mi sembra c'hanno 256 di cui 254 sono cingalesi e due siamo io e praticamente no è Sofia e Jacopo quindi proprio non lo so tutti i cingalesi mi sono scritti tutti dell'India vabbè voi se vede che boh non lo so le magliette poi me le metto tutte belle fiorite altro che Zuckerberg guarda che maglietta te io so il portacasa Zuckerberg 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 scusa di dove è? di dove è? è ah boh è americano è americano ho visto pure il film boh se no si chiama Zuckerberg sai che in mezzo d'andava? Harvard si è americano tu l'hai detto Harvard sta in America c'è stanno tutti quelli della CIA ci ho fatto pure io qualche lezione tu ad Hogwarts l'hai fatto Hogwarts si Harry Potter no davvero ho fatto una mezza supplenza di Harvard poi dopo non diceva beh va via perché se no magari ti insegni le brutte maniere a sti quattro così qua e insomma che è successo? che stava a dire? è successo che dobbiamo andare ecco è successo che dobbiamo andare e quindi vabbè raga adesso c'è un'altra pagina Facebook al mondo che si chiama The Fishish Family Marco Pesci sta solo su YouTube perché Marco Pesci altro che Zuckerberg è la Vuelkan quindi se voi volete potete andare lì e iscrivervi io non comunico su Facebook io non comunico infatti come farò a prenotare la pizza quando stiamo fuori perché lo sapete poi perché l'utilizzo io Facebook a parte tutto se tu stai all'estero per chiamare una pizzeria per prenotare spendi i soldi e poi a parte che non te capisci allora che succede? tu prendi il numero di telefono vai a vedere o lo metti su Whatsapp e mandi il messaggio però chi ti si fila oppure vai sulla pagina Facebook della pizzeria quello che è ristorante albergo quello che ti pare e scrivi lì quindi ti aiuti col translate e lì ti rispondono però devi essere comunicativo quindi non so se farò messenger solo con il computer solo per fare insomma per prendere le prenotazioni perché io non chatto non mi piace proprio non rientra nei miei nelle mie abitudini insomma non mi piace non mi piace io già rispondo ai commenti ecco quando uno mi chiede qualche cosa sui commenti posso rispondere però chattà si no tu che fai buonanotte buonasera buongiorno non mi frega e quindi così ho fatto questa pagina iscrivetevi però non è comunicativa insomma guardate mi piace non mi piace fate quello che vuoi fare insomma vabbè allora dicevamo Zuckerberg ha la t-shirt grigia la Puelcan se rigra fa le macchine col colore mimetico e io ditemelo nei commenti